Ordine del giorno del centro-destra per San Giustino presentato al prossimo consiglio comunale perché c'è una necessità di interventi urgenti per il ripristino e la pulizia dei forzi poderali e vicinali a favore del territorio comunale. Noi ne parliamo con il consigliere di minoranza in quota al PDL Mario Mancini. Bene, sì certo, sono molti i cittadini che hanno un danno, protestano perché quando piove, quando sono temporali in particolare, si trovano campi e non solo campi ma anche abitazioni allagate. Il problema che noi vogliamo porre al sindaco, ma ovviamente il sindaco lo conosce perché il consigliere Leonardo già l'anno scorso presentò un'interrogazione che poi ci fu anche la risposta scritta del sindaco che poi è stata diciamo in parte disattesa qualcosa ha fatto ma relativamente poco evidentemente. Perché? Noi abbiamo un regolamento di polizia rurale che in articolo 14 che i proprietari o i conduttori dei campi dovrebbero tenere in ordine fossi dei loro campi e ogni anno rimetterli, controllarli e rimetterli eventualmente ripristinarli. Ripristinarli, certo. Ciò ovviamente non viene fatto e il comune non interviene. Noi chiediamo al sindaco di relazionare con la visita dei vigili urbani o della protezione municipale o dei tecnici comunali e ordinare con ordinanza ordinare ai cittadini in adempietti il ripristino di tali fossi. Ci puoi indicare brevemente in due parole quali sono i punti critici di questo di questo problema? Allora sono località ovviamente e principalmente località Capanne di Sotto e a Monte di Capanne di Sotto che è una località di San Giustino vicino allo svinco dell'Ai 45 e Cadinardo che si trova sempre a San Giustino praticamente sotto Gabriellone, località Gabriellone Cadinardo. Al confine con Sansepolcro, la strada sotto l'ingram praticamente la strada che porta verso il Trebbio, le cascine di Selci praticamente dove siamo in questo momento e via Garibaldi che soffre diciamo dell'acqua meteorica che viene praticamente dal parco Roccolo. Ovviamente non è solo il comune responsabile perché il parco Roccolo dovrebbe essere gestito dal comune, ci sono anche alcuni proprietari che dovrebbero rimettere diciamo a posto le cose perché via Garibaldi quando piove si allarga quasi completamente.